Ciao cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Sono con voi con un video divertente. Gli attori preferiti da tutti, Tagba Bujukustun e Engina Kurek, hanno deciso di porre fine alla loro relazione di lunga data. Tutti i dettagli di questa separazione, che si riflettevano anche nell'agenda della rivista, hanno creato una grande sorpresa tra i fan dei famosi attori. È stato affermato che il motivo principale per cui i due attori hanno deciso di porre fine alla loro relazione fosse Demet Özdemir. Dopo aver appreso dell'incidente, i giornalisti hanno avviato un'indagine approfondita nella cerchia ristretta della coppia. Secondo le informazioni ottenute, si è scoperto che la persona che ha interrotto la relazione tra il magistrato di Tuba e Engina Kurek è stata Özdemir, la giovane e bella attrice. Se avessi scosso il rapporto della coppia, queste misteriose tre persone si sarebbero introdotte tra la coppia per circa un anno ed era inevitabile che col tempo si separassero. Le affermazioni secondo cui Demet sarebbe intervenuto in un modo che avrebbe influenzato negativamente la relazione tra Tagba ed Engin sono state confermate da molti persone vicine alla coppia. Il mondo dei magazine però sta valutando la fondatezza di queste accuse senza ancora rilasciare dichiarazioni ufficiali. Sebbene le accuse di una relazione a tre siano accolte con grande interesse sui social media, i fan inviano messaggi di sostegno e tristezza sulle piattaforme di social media. Sebbene i portavoce di Tuba Bujukustun e Engina Kurek non abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'argomento, non è possibile rivelare chiaramente il motivo della separazione della coppia. Tuttavia, con il nome di Demetho Sdemir che viene menzionato spesso, il mondo delle riviste sta cercando di svelare gli aspetti interni ed esterni di questa triplice relazione. Anche se la notizia della separazione, attesa dai fan con impazienza, si è complicata ulteriormente con le accuse di una tripla relazione, sembra che il mondo della rivista seguirà da vicino il futuro della famosa coppia e di Demetho Sdemir. Anche se l'addetto stampa non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla separazione, l'attesa continua con curiosità. Dopo questi eventi l'interesse per gli account sui social media di Tuba Bujukustun, Engina Kurek e Demetho Sdemir è aumentato ancora di più. Mentre il mondo dei magazine attende maggiori dettagli e dichiarazioni ufficiali sullo scandalo del triplo rapporto, questo evento all'ordine del giorno mondiale viene seguito con grande curiosità. Grazie a tutti per aver guardato il mio video. Ci vediamo nei nuovi video.